Ciao. 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 Jaupo. Lucia. Maiko. Maiko. Vi spiego cosa dovete fare. Si. Praticamente voi non vi conoscete quindi usate questo set per conoscervi. Ok. Vi presentate, cercate di entrare in sintonia. Quando ve la sentite dovete baciarvi. Cioè la limono? Sì, dovete limonare Cioè con la lingua Sì, baciarvi con passione Però prendetevi i vostri tempi Ci sarà un imbarazzo che a noi piace Quando vi sentite pronti Anche se dopo un po' Quando ve la sentite baciatevi Facciamo una prova Cioè quando se la sentiamo Con calma, presentatevi Kiss, scena 1 No, aspettate ragazzi Scusate Dovete presentare l'imbarazzo Scusate Aspettate un attimo No, oh Lasciala Aspettate un attimo